Nido dei bimbi Dal 1985 un punto di riferimento per mamme e papà Tutto per la prima infanzia Alimentazione, cosmetici, abbigliamento e tessili, giocattoli, camerette La nostra soddisfazione e il cliente felice Vi aspettiamo nei nostri store di Via Luigi Conforti 13 e Via Trento 139 di fronte al McDonald's Seguici sui social Nido dei bimbi Un piccolo momento di grande qualità Mattinata tipica oggi a Jembach in Austria per la Salernitana Il quinto giorno di ritiro ed è il giorno della prima amichevole in programma oggi pomeriggio Per questo motivo Nicola ha modificato il consueto programma di lavoro Che prevede ogni giorno una doppia seduta di allenamento mattina e pomeriggio Ovviamente visto che oggi c'è la prima amichevole contro la Jembach La squadra locale di calcio Questa mattina si è svolta una seduta di allenamento blando I giocatori blandi sono arrivati alla spicciolata divisi in due gruppi qui al campo sportivo di Jembach Hanno lavorato soprattutto in palestra e poi un lavoro leggero sul campo concentrato in particolar modo sui movimenti della difesa da calci piazzati Quindi da calci d'angolo e calci di punizione Dopo i giocatori quando hanno finito questa seduta di questa mattina Lo ripetiamo molto leggera Si sono fermati comunque con i tifosi presenti qui a Jembach Per autografi, per foto Stanno aumentando i tifosi che vengono qui in Austria Anche perché oggi c'è la prima amichevole Poi mercoledì prossimo ci sarà la seconda amichevole contro lo Schalke 04 Come detto una mattinata tipica, il programma prevede poi domani una giornata di riposo intera Mattina e pomeriggio la squadra non si allenerà Domenica invece si riprenderà con la consueta doppia seduta di allenamento Vediamo un po' come potrebbe giocare oggi la Salernitana contro Jembach in amichevole La probabile formazione in base alle prove effettuate in questi ultimi giorni da Nicola Dovrebbe essere con Sepe in porta Motoz, Radovanovic e Fazio in difesa A centrocampo Mazzocchi a destra, Jarosischi a sinistra In mezzo al campo Capezzi, Boinen e Mamadou Colibali In avanti Simi e Ribery L'ultimo arrivato ovviamente Boteim non giocherà dall'inizio Ma probabilmente troverà spazio nel corso della partita Al pari di un po' tutti quanti i compagni Presumibilmente Nicola della Spazio Un po' tutti gli elementi che sono qui in ritiro a Jembach in Austria Tra i giocatori sempre disponibili con i tifosi C'è senza dubbio Frank Ribery, anche oggi si è soffermato per rilasciare degli autografi Delle foto con i tifosi E poi è stato protagonista di questo momento divertente al fiume Eccolo Frank dove l'altra ciabatta? Non lo so, si è andato in vicino Frank Ribery insieme poi a tutti quanti gli altri compagni vanno spesso al fiume Il fiume Inna è che ha due passi proprio dal centro sportivo qui di Jembach I giocatori a fine allenamento spesso attraversano di fatto una strada fuori al campo di allenamento E arrivano subito al fiume per passare qualche momento di relax Anche per raffreddare un po' le gambe e i muscoli che sono sottoposti ad allenamenti importanti Con sedute mattina e pomeriggio Questa è una piccola divagazione, una piccola concessione data ai giocatori Che in realtà qui in ritiro in Austria stanno seguendo un regime abbastanza austero Mattina colazione, poi campo di allenamento Si torna in hotel per il pranzo E poi di nuovo allenamento e pomeriggio Di nuovo in albergo per la cena Di fatto non fanno più niente i giocatori Insomma come lo stesso Radovanovic ha sottolineato l'altro giorno Botein, l'ultimo arrivato, si sta integrando bene Lo vediamo già che dialoga spesso con i nuovi compagni Soprattutto in compagnia di Boinen, il connazionale norvegese E vediamo come è stato annunciato dai canali social Botein ufficialmente Una breve storia carina sui canali social per annunciare ufficialmente l'arrivo di Eric Botein Queste invece sono le prime dichiarazioni rilasciate ufficialmente sempre attraverso i canali della Salernitana Sono molto felice di essere qui Ho guardato molti video, soprattutto i fani E i fani sembra meravigli E immagini di scorrere golvi in fronte di loro E' stato un buon sentimento E' stato di poter giocare in Serie A E' stato un sogno di bambino E' stato pronto E' stato pronto Ho spero che possiamo lavorare insieme E sviluppare E mettere il club in più oltre Siamo in questa scala E' stato un buon club nel futuro L E' stato molto bene Quindi Nebiamo lavorare insieme Noi E' stato un'anni Che avevo una cosa più vele Non ho vienesce sennò Ho non ho avuto una scissola Ho spero di scorrere golvi Quindi è stato natural E' stato di rinforo E' stato molto felice Per andare in fronte di fanci E il mondo e tutto, quindi andiamo! Parliamo soprattutto di Pirola, sarà lui il prossimo calciatore della Salernitana, domani mattina le visite mediche a Salerno e probabilmente poi domenica forse raggiungerà il ritiro a Iembac, ma potrebbe anche slittare la sua partenza per il ritiro, mentre domenica certamente saliranno qui in Austria Lovato e Lassana Koulibaly. Lovato che è arrivato dall'Atalanta nell'operazione Ederson all'Atalanta, la Salernitana ha circa 14 milioni di euro più il cartellino di Lovato, un investimento su un giocatore giovane, la difesa importante quindi per la Salernitana e poi domenica forse salirà anche Veseli, quindi da verificare un po' la partenza di questi giocatori, quindi di Pirola, Lovato, Koulibaly e Veseli per il ritiro qui in Austria. Pirola che arriva alla Salernitana in prestito dall'Inter per circa un milione di euro, diritto di riscatto per la Salernitana fissato intorno ai 4 milioni di euro, attenzione perché l'Inter vuole comunque cautelarsi, perché parliamo di un difensore 2002, 20 anni, uno dei migliori prospetti di difensori italiani e quindi l'Inter vorrebbe cautelarsi o con una percentuale sulla rivendita oppure con un'opzione di contro riscatto. Questi sono dettagli che poi verranno comunicati a breve proprio in queste ore e lo ricordiamo domani mattina visita medica a Salerno per Pirola. La Salernitana sembra interessata anche a Djuricic, svincolatosi dalla Sassuolo, sul centrocampista però c'è anche il Torino, quindi Torino e Salernitana vorrebbero prendere a parametro zero senza dubbio, un giocatore molto interessante, in grado di dare qualità al centrocampo e anche assist e anche qualche gol. Oltre Djuricic parliamo adesso anche di Cavani, sappiamo il sogno, la suggestione Cavani da parte del presidente Iervolino, se ne è parlato tanto nei giorni scorsi, adesso il nome di Cavani è stato accostato al Monza. Il Monza che intanto tratta Icardi, si è parlato anche di Dybala, ha preso già giocatori importanti il Monza come Pessina, Sensi e ancora altri come Ranocchia. Adesso la società di Berlusconi e Galliani pare abbia concettato le sue attenzioni anche su Cavani. Non della Sampdoria per il terzino a Ugello, si tratta invece con la società blucerchiata ancora per Torsby. La Sampdoria vuole più soldi da parte della Salernitana, quindi bisogna ancora trovare l'accordo tra le società, che invece c'è l'accordo tra le società per quanto riguarda Bonazzoli, ma non c'è ancora quello tra Salernitana e Bonazzoli. Il Club Granata probabilmente aspetterà ancora questi giorni, entro fine settimana vuole una risposta definitiva. Breve novità anche per Valencia, quindi Salernitana concentrata sul reparto avanzato. E ora, dopo aver parlato di mercato, parliamo dell'aspetto nutrizionale, dell'alimentazione e ascoltiamo il nutrizionista della Salernitana, Cioffi. Diciamo che questa è una fase importante perché appunto i calciatori cominciano a mettere benzina nelle gambe e consumano molto glicogeno. Quindi devono assolutamente fare un carico di glicogeno e quindi prevediamo il carboidrato sia a pranzo che a cena, perché si parla di doppie sedute quotidiane, quindi il pasto in particolare del pranzo è quello che consente al calciatore di recuperare il glicogeno perso la mattina e di ripresentarsi pronto all'appuntamento con l'allenamento il pomeriggio. C'è sempre una fonte proteica perché ricordiamo che l'allenamento è il momento dello smantellamento, il passo successivo all'allenamento è quello della ricostruzione. Quindi proteine che variano dalla carne al pesce, legumi, alle uova, carne bianca, quindi proteine nobili, spaziamo dal petto di pollo, al petto di tacchino o agli involtini di pollo. Oppure per quanto concerne il pesce abbiamo pesce spada, abbiamo salmone, orata, merluzzo. Il consiglio che do ai calciatori è quello di quando scelgono il pesce abbinare ad esso i legumi per raggiungere la stessa nobiltà delle proteine della carne. In particolare la sera qualche sapore un po' più forte perché è chiaro che si mangia anche col cervello, quindi prevediamo l'omeletta al formaggio oppure un primo piatto più saporito, qualche volta la carbonara. Insomma cerchiamo anche di alleviare i calciatori sotto questo aspetto perché è chiaro che il gusto va alimentato in un certo senso. Se qualcuno ha bisogno di potenziare la massa muscolare facciamo anche riferimento all'integrazione che quindi è un coadiuvante dell'alimentazione, quindi ci sono dei piani alimentari personalizzati ma bene o male le linee guida, le direttive sono uguali per tutti. Vediamo anche in grande forma Davide Nicola e il suo staff, anche loro mangiano un po' come i calciatori. Devo dire la verità, loro ci tengono a mangiare come i calciatori anche da un punto di vista etico e sono tutti molto attenti all'alimentazione e chiedono molti consigli al pari dei calciatori. Quindi è uno staff veramente molto attento all'alimentazione, quello di mister Nicola. Amento nei tifosi presenti qua in ritiro in Austria ne abbiamo incontrati alcuni provenienti da Baronissi. Casualmente qui in Austria? Sì, sì, casualmente, proprio casualmente. Non voluto. Per seguire la Sardinitana a migliaia di chilometri? Certamente, la Sardinitana si fa questo ed altro. Tante trasferte, anche questa per il ritiro in Austria? Sì, sì, infatti. Un bel viaggetto, vediamo anche le zone, bella zona qui. Cosa pensi per l'anno prossimo? Speriamo una salvezza tranquilla. Questo ci basta e poi quello che viene dopo è meglio. Potem ti piace? Cosa ti aspetti dal mercato? No, secondo me è stato un ottimo acquisto e comunque credo che il Presidente ci regalerà qualche altro acquisto molto consono per la stagione. Magari anche per completare il campionato in maniera più tranquilla rispetto all'anno scorso. Quindi ci sta. E sono oltre 3.000 gli abbonamenti venduti, continua la campagna abbonamenti, si attendono ovviamente agevolazioni in curva per famiglie e bambini promesse dalla società, un gesto di attenzione senza dubbio richiesto più volte e giustamente da riconoscere. Per il momento è tutto, questo speciale ritiro da Jembach ha le prossime aggiornamenti, sempre qui da Ritiro in Austria. A Faluzzo, che va per il suo problema!